Bonifici a due testimoni, le gemelle De Vivo per 72 mila euro a processo in corso, 185 mila euro a Nicol Minetti da quando l'inchiesta è iniziata con 100 mila euro girati immediatamente a tre avvocati difensori della consigliera regionale, soldi di Silvio Berlusconi, il caso Rubi è anche questo. A prescindere signore del tribunale da ogni approfondimento sul fatto che vi siano eventualmente causali che potranno essere specificate, ovvero questi versamenti siano altamente indizianti, lo vedremo, noi riteniamo assolutamente necessario estendere il capitolo di prova. Nel processo a carico di Lele Mora, Nicol Minetti ed Emilio Fede, l'accusa chiede di acquisire i nuovi accertamenti bancari, non c'è alcuna accusa precisa, sono solo elementi in più per far capire ai giudici i rapporti tra Berlusconi e le ospiti delle notti di Arcore. I prestiti che sono stati dati a lei dal presidente Berlusconi sono le ragioni della loro amicizia che li lega da tempo, questo credo che sia un fatto noto a tutti. La stessa tesi di Niccolò Ghedini, secondo cui l'accostamento tra bonifici e ruolo di testimoni è assolutamente pretestuoso, intanto però sulla base delle segnalazioni di Banca Italia c'è un nuovo fascicolo aperto, tutto da sviluppare.